ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole oggi ragazzi nuova presentazione di prodotti o light con la nuovissima nuovissima button 4 la sua custodia di ricarica wireless ragazzi questa dovete assolutamente assolutamente venire a vederla insieme perché è una torcia spettacolare con un'autonomia infinita ragazzi questa non perdetevela e andiamo a vedere inoltre un folder della o knife il driver ragazzi non perdiamo tempo e andiamo a vederli insieme eccoci qui ragazzi pronti a questa nuova presentazione di prodotti o light come al solito quando faccio questi video di presentazione ci tengo a precisare che sono delle presentazioni e non dei test sono presentazioni di prodotti che mi vengono mandati dall'azienda per farveli conoscere per proporvi questi prodotti con delle offerte irripetibili le trovate nei link sotto ragazzi nella descrizione video vi metto i link per aderire a queste super offerte di o light cosa vediamo oggi vediamo il driver di o knife ma lo vediamo dopo adesso voglio soffermarmi ragazzi sulla button 4 premium addiction upgrade della button 3 ragazzi spettacolo spettacolare torcia button 4 con custodia caricatore wireless tantissima roba è super mega potenziato rispetto alla button 3 qui abbiamo ragazzi una batteria interna di 5000 mAh che vi consente di ricaricare per ben 5 volte la vostra button 4 ragazzi 5 volte mettiamo che voi la utilizzate a potenza media che è quello che vi serve vi dura 8 ore a carica per 5 sono 40 ore con la lucetta accesa ragazzi non vi lascia non vi lascia mai a piedi avete la possibilità di avere sempre una luce con voi anche se state via più giorni ragazzi grazie proprio alla ricarica wireless della custodia tantissima roba ragazzi tantissima roba tra l'altro la custodia fa anche da power bank quindi volete anche ricaricarvi il telefono vi ricaricate pure il telefonino rispetto a quella della button 3 ragazzi qui caricate 5 volte contro le 3.7 della button 3 quindi abbiamo potenziato mica da ridere altra cosa che è cambiata della torcia e che ha lo leggete qui sulla confezione 1300 lumens a potenza massima contro i 1200 della button 3 ragazzi la distanza ingittata è cambiata da 166 metri per la button 3 a 170 metri per questo gioiellino ragazzi non vi faccio perdere tempo andiamo a vederla andiamo faccio fare se volete farvi uno screenshot ragazzi non mi soffermo troppo perché comunque è una presentazione di due prodotti prendetela proprio come una presentazione qui ve la leggete ragazzi 52 grammi batteria inclusa molte volte vi dicono il peso ma vi dicono senza batteria certo perché voi le torce le usate senza batteria ovviamente con batteria inclusa 52 grammi ragazzi non la sentite neanche ma andiamo a vedere ragazzi allora qui dentro avete quando la prendete vi dicono di levare la plastichina dalla custodia ricarica e la plastichina da dentro la vostra torcetta ovviamente ragazzi sono cose che io ho già fatto quindi la vediamo che io l'ho già utilizzata e ragazzi l'ho già provata sapete che non ce la faccio a non utilizzarla eccola qua eccola qua con il suo led mamma che bella ragazzi poi in interno vediamo tutte le cose adesso vi faccio una presentazione così togliamo questo sotto abbiamo il solito class eccoli lì vedete questi qua sono i pezzettini di plastichina che vi mettono dentro come sicurezza per la batteria grazie mille grazie mille anche la qua chiudiamo mettiamo via e mettiamo via di qua perfetto qua dentro ragazzi qua dentro andiamo a vedere cosa abbiamo qua dentro abbiamo il cavetto di ricarica eccolo qua usb type c eccolo qui perfettissimo poi abbiamo facciamo uscire tutto vediamo se riusciamo a prendere tutto abbiamo il lacciolo ragazzi che potete attaccare questa è una novità anche rispetto alla custodia della button 3 potete attaccare tranquillamente la vostra custodia per trasportarla quindi avete il lacettino con lo stringi polso è ok potete stringere allargare mettere un po dove volete avete questa cosa carinissima ragazzi che è praticamente l'uncinetto che vi serve per far passare il filo è una figata ragazzi questa è una figata questa da conservare perché anche su certi coltelli serve l'uncinetto ogni volta ci state di brutto dentro abbiamo un pannetto mi vola tutto sono emozionatissimo con questa torcia in mano un pannetto di pulizia per poter pulire quello che volete ragazzi e le istruzioni so che alle istruzioni ci tenete fatemi mettere via un po di roba perché abbiamo troppa roba se no so che alle istruzioni ci tenete quindi adesso ve le faccio vedere ragazzi vi faccio vedere allora ecco qua queste qua istruzioni eccole qui ovviamente erano dentro bene ragazzi solo che io sono un po una bestiaccia eccole qua che vediamo un po tutto ragazzi ve le faccio passare ovviamente se volete farvi degli screenshot ve li fate qui avete le modalità e le potenze e le durate ragazzi sono istruzioni giga e gigantesche poi io ve le faccio passare così ripeto e prendetelo come unboxing ragazzi perciò poi se la prendete ve le guardate da soli le istruzioni ve le siete viste facciamo finta che ve le siete viste mettiamole qua sotto e andiamo a vedere ragazzi la nostra button 4 con la ricarica wireless spettacolo ragazzi tac novità rispetto alla button 3 il display vi dice quanto è carica la custodia quindi quanto è carica la custodia non la vostra torcetta perché la vostra torcetta ragazzi ha eccolo qua che ve lo faccio vedere eccolo qua che ve lo faccio vedere gli indicatori indicatori ragazzi micro perforati laser ok vi fa vedere esattamente quanto è carica ok adesso in esterno non li vediamo però poi vi faccio vedere ragazzi in interno come si vedono da un lato avete quanto è carica la batteria con queste due queste tre micro perforazioni e da questa parte ragazzi qua a potenza state utilizzando la vostra torcetta ragazzi considerando la dimensione della torcia la luce che fa è spettacolare veramente veramente spettacolare un grip spettacolo ovviamente alluminio nodizzato impermeabilizzato ipx 8 ragazzi tanta 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 roba ragazzi è una torcettina edc spettacolo ovviamente potete caricare anche con cavetto magnetico ma da quando avete la vostra bella custodia ragazzi elegantissima con questa qua ci potete mettere l'anello per la fidanzata mettete dentro la vostra torcetta ragazzi ovviamente adesso segna verde perché è completamente carica la torcia si carica da sola vi dice il livello di batteria qui avete la spina usb per il cavettino ok type c ci mettete il cavettino attaccate ragazzi è una bomba questa ve la portate avete un'autonomia infinita ragazzi ma infinita davvero ma tantissima roba tantissima tantissima roba ragazzi poi vi faccio vedere all'interno tutte le funzioni perché potete comandare la torcia anche da questo che è un tastino ragazzi libidine 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 con i fiocchi come diceva jerry calà spettacolo ragazzi la torcetta è veramente bella avete sempre la sua clip doppia direzione di qua o sopra è un bel un bel oggettino il tasto è stato fatto in acciaio ragazzi quindi non è più sintetico ma è acciaio avete un bel tasto in acciaio led che si illumina l'enterprise grip ottimo ragazzi è veramente spettacolare davvero davvero spettacolare adesso prima di vedere il nostro bel coltello andiamo in interno e vediamo le funzioni e tutte le modalità di questa spettacolo di baton 4 via eccoci qui ragazzi in interno per vedere tutte le modalità e le funzioni della nostra baton 4 e della sua custodia di ricarica wireless davvero tantissima roba oltre a essere veramente molto elegante ragazzi veramente bello come oggettino e anche super super funzionale quando siete in giro per più giorni quando siete nel bosco per più giorni quando non avete la possibilità di ricaricare la vostra torcetta con il cavetto ragazzi avete la possibilità attraverso questa custodia di ricarica wireless di caricare fino a 5 volte la vostra torcetta nel bosco è una figata fate uscite di più giorni non avete più il pensiero mi si scarica la torcia perché potete ricaricarla fino a 5 volte con questa batteria da 5000 mAh della custodia ragazzi come funziona allora aprite vedete che si accende una lucettina verde la lucettina verde mi dice che la mia torcia in questo momento è completamente carica ok se non fosse completamente carica la lucettina diventerebbe immediatamente rossa questo vi dice che sta caricando la batteria della vostra torcia una volta che la torcia arriva al full al 100% la lucetta torna verde l'illuminazione rimane accesa per qualche secondo dopo che aprite il cappuccino poi si spegne ovviamente per conservare sempre la batteria quel numerino qua che vedete qua davanti ragazzi è la carica della custodia in percentuale ok vi sta dicendo che la vostra custodia è al 96% quindi può caricare ancora praticamente cinque volte la vostra torcia quindi non è la residua la batteria residua della torcia ma della custodia e ragazzi questa qua davanti perché perché la mia torcettina che ovviamente si attacca in modo magnetico quindi se la girate non esce come vedete la mia torcettina ha i livelli di batteria e di modalità di potenza che state utilizzando proprio in differenza di fianco al tasto di accensione ragazzi quindi noi accendiamo la nostra torcetta eccolo che l'accendiamo come vedete abbiamo tre livelli di batteria quindi siamo completamente carichi ragazzi andiamo a potenza bassa l'abbiamo accesa in lucciolina questa qua è potenza bassa di qua avete il livello di batteria di qua avete la luminosità cui la state utilizzando è semplicissima tenete schiacciato e salite di luminosità andate a media tenete schiacciato andate ad alta ragazzi alta è veramente fortissima veramente fortissima ragazzi eccoli lì maveriche goose che si stanno polverizzando se poi andiamo a turbo il turbo di questa torcia è impressionante ragazzi è impressionista accecando veramente accecando quindi torniamo e torniamo ad alta vedete ha comunque il sistema di memoria memorizza l'ultima modalità in cui l'avete utilizzata andiamo a bassa se no non vediamo niente soprattutto le lucine che sono tanto belle ragazzi veramente una figata perché potete avere il controllo immediato in ogni istante sia della batteria che del livello che state utilizzando quindi secondo me è veramente tanta roba e ragazzi bello 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 ragazzi andiamo sull'enterprise ragazzi tantissima roba tantissima roba ovviamente la torcia anche la funzione lucciolina come l'abbiamo accesa prima eccola qua è la lucettina che vi consente di guardare nella tenda nello zaino per non dare fastidio insomma una moonlight piccolina ragazzi la nostra lucciolina ovviamente abbiamo anche la funzione strobo con tre clic uno due tre e andiamo in strobo lo strobo ragazzi di una potenza terrificante è terrificante quanto è potente questo strobo davvero tantissima roba ragazzi un oggettino veramente bello però io ho la torcettina praticamente scarica ce l'ho bisogno come faccio la metto nella mia custodia tacchete è dentro nella mia custodia attenzione perché questo ragazzi non è solo un display ma è un tasto se voi lo tenete schiacciato la torcia si accende e da qua comandate la torcia ragazzi è una figata è una figata o no ragazzi e poi la potete spegnere è una figata incredibile cioè se voi avete la torcia scarica la mettete qua dentro schiacciando questo tastino andate ad utilizzare la torcia ragazzi utilizzate tranquillamente la vostra bella torcetta intanto che lei si sta ricaricando veramente tantissima roba ragazzi tantissima tantissima roba la nostra basetta ragazzi wireless di ricarica wireless è compatibile anche con la button 3 con cui funziona anche il comando in cui potete accendere e spegnere la torcia comandarla con questo tastino e poi solo per ricarica e custodia ovviamente quindi non potete comandare la torcia con questo tastino con la s1r la perun mini e la perun 2 mini quindi la custodia diciamo che funziona per ricarica per tutte queste ma le uniche che funzionano con questo tastino ragazzi che accendete spegnete e governate la torcia con questo tastino come vedete sono la button 3 e ovviamente la button 4 in dotazione ragazzi cosa vi posso dire è veramente un gran bel prodottino un prodotto di olight spettacolare secondo me a livello di design sicuramente ma a livello di funzionalità perché riuscite a veramente a caricare cinque volte la vostra torcetta ragazzi è veramente tanta roba veramente veramente tanta roba ragazzi piccolissima fa una luce ragazzi neanche un mignolo il mio mignolino storto ragazzi prendiamo quello dritto è mignolo ragazzi è un mignolo tantissima roba ragazzi tantissima roba ve la faccio vedere accesa perché mi piace veramente farvi vedere tutte le lucioline accese perché è spettacolare guardate che roba è bellissimo pannello di controllo mamma mia mamma mia se poi andiamo a turbo a ragazzi si si polverizza col turbo qua davvero tantissima roba tantissima roba sono contentissimo ragazzi è una torcia spettacolare spettacolare questo leddino è fenomenale ragazzi cosa vi posso dire torcetta che secondo me con la sua custodia è davvero un oggettino da prendere e considerare nella vita reale perché molte volte siamo in giro abbiamo paura che ci si scarica la torcia con questa combinazione ragazzi paure non ne avremo più andiamo insieme a vedere anche il coltello di o knife eccoci qui ragazzi dopo aver visto la nostra baton 4 con la sua custodia di ricarica wireless spettacolo funzioni spettacolare autonomia infinita per le vostre avventure andiamo a vedere lo knife driver ragazzi coltello che vi viene via in offerta a 58 euro e qualcosa ragazzi un coltello fatto molto bene assemblato bene ottima meccanica cuscinetti a sfera lama in n6 90 ragazzi flipper fluidissimo 58 euro in offerta vabbè chiudiamo qua ragazzi chiudiamo qua ovviamente non è un coltello da paragonare a pezzi da 300 euro però ragazzi è un ottimo coltello ottimo coltello fatemi spostare un po' tutto tiriamolo fuori qui abbiamo il classico astuccino non ci ho guardato l'ho anche rotto ok dovrebbe esserci dentro il pannetto se non erro eccolo lì ragazzi lo sapete che c'è ripeto oggi andiamo un pochino di corsa perché abbiamo due accessori da farvi vedere ragazzi la sia la torcia due oggetti sia la torcia che il coltello eccola qua la nostra poche in nylon la apriamo e estraiamo il coltello ragazzi eccolo qua eccolo qua il dublone ve lo faccio vedere dopo lo so che lo sapete che c'è ve lo faccio vedere dopo ragazzi eccolo qua centratura ma dire voi dire voi è perfetta ragazzi è perfetta attenzione vi faccio vedere anche aspettate ho le mani fredde fa un freddo boia vi faccio vedere come taglia perché poi qua restiamo sempre al solito punto ragazzi si spendono dollaroni e dollaroni per coltelli super blasonate che arrivano che non tagliano neanche l'aria questi qua vi arrivano ragazzi affilati da paura veramente da paura tantissima roba tantissima roba vi do due misure ragazzi coltello nella sua interessa misura 20.2 lama ship foot lunga da 8.8 96 grammi ragazzi è un bel coltello lama in n6 e 90 ragazzi eccolo lì con l'oghino o knife ragazzi finitura dark stone washed è un coltello ragazzi che fa tranquillamente il suo questa presa avanzata finalmente giusta ci sta il vostro bel ditino ragazzi solitamente le fanno talmente piccole che non ci sta nulla andate a lavorare con la ship foot lunga un bel tagliente affilatissimo come avete visto abbiamo il thumbstone il perno lama e la clip anodizzati azzurri ragazzi è spettacolare spettacolare per quello che costa ovviamente rapportiamolo sempre al prezzo di vendita ragazzi abbiamo in mano un coltello che non arriva a 60 euro in offerta ovviamente ragazzi adesso siete aderiti all'offerta lo tirate a casa a 58 e qualcosa ragazzi è un bel coltello ultra scattante fluidissimo ragazzi fluidissimo guardate qua ragazzi è una figata è una figata ragazzi è una figata avete un movimento super scattante liner lo potete aprire sia con il flipper come ho fatto vedere eccolo qua che con il thumbstone è qualcosa di spettacolare movimento su questi cuscinetti viaggia a una fluidità incredibile guancette in g10 nero che vedete eccole qua bel g10 nero forse un pochino liscio però ci sta ragazzi ci sta cartelle interne in acciaio alleggerite eccole lì ragazzi questo coltellino in offerta ve lo ripeto ancora perché sembra incredibile a dirlo ve lo tirate ve lo tirate a casa a meno di 60 euro 58 e spicci e ragazzi questa è tanta roba super super offerta in offerta e ragazzi presa avanzata bella per andare a lavorare con la ship foot lunga perché se la ship foot lunga non avesse avuto la presa avanzata ha poco senso invece così ragazzi secondo me in mano sta bene il coltello in mano per il resto sta bene anche rovesciato sta bene ragazzi ovviamente rapportiamo sempre il costo all'oggetto nessuno sta dicendo che è un coltello che vale come un coltello da 300 euro però per meccanica per precisione costruttiva per apertura fulminea per tagliente a rasoio ragazzi è un coltello che stravale stravale i suoi soldoni tra l'altro attenzione perché oltre al coltello perché voi non ci credete oltre al coltello vi regalano pure il doblone doblone che ormai conoscete ragazzi ogni coltello al suo sono belli tutti da collezionare guardate che roba collezionateli tutti ragazzi come dice qualcuno collezionateli tutti questi dobloni di o knife sono una figata che vi regalano col coltello gli amanti delle dc qua svalvolano ragazzi svalvolano veramente doblone fighissimo con il suo coltello il driver ragazzi e è incredibile da dire ma è compreso nelle 58 euro qualcosa ragazzi tantissima roba tantissima tantissima roba chi piace collezionarli questi sono dei bei pezzi da collezionare ragazzi coltello economicissimo veramente che stravale quello che costa button 4 con la sua custodia di ricarica wireless ragazzi stavolta abbiamo veramente due prodotti o light davvero sopra le righe questo per quanto economico per come è fatto bene per come realizzato costruito affilato bene e la nostra button 4 ragazzi perché è qualcosa veramente di eccezionale che vi permette di restare tranquilli di aver sempre un'autonomia infinita della vostra button 4 con la sua custodia di ricarica wireless noi andiamo alle conclusioni finali eccoci qui ragazzi dopo questa presentazione di prodotti o light ragazzi ci tengo alla parola presentazione non è un test è una presentazione legata alle offerte che fa o light su questi prodotti in questi giorni come fate ad usufruire dell'offerta sotto nella descrizione video avete il link cliccate sul link andate a usufruire di questa offerta ragazzi perché ne vale veramente la pena driver ragazzi coltello scattantissimo meccanica perfetta centratissimo ragazzi cartelle in acciaio g10 n 690 ragazzi lo tirate a casa con neanche 60 euro è un coltellino che secondo me li vale completamente tutti ragazzi davvero bel bel petto lama ship foot lunga tanta roba ragazzi però la star la star di oggi è la nostra button 4 la sua custodia di ricarica wireless ragazzi è un prodottino spettacolare spettacolare avete la vostra torcettina per fare un mare di luce che rimane sempre carica nella sua bella la custodia ragazzi potete caricare con la custodia cinque volte fino a cinque volte la vostra button 4 per un'autonomia veramente lunghissima ragazzi non avrete più paura di restare senza batteria in più funziona anche come carica batteria come power per il vostro cellulare ragazzi è una figata è una figata mi raccomando non perdete queste offerte perché secondo me ragazzi vediamo come posso prenderle in mano così secondo me ne vale veramente ma veramente la pena ragazzi dal onight driver dall'olight button 4 con la sua custodia di ricarica wireless nel percetto del taglia gole è tutto buona giornata e ciao ciao